Potrebbe essere ancora croato il nuovo centravanti del crotone calcio. Per esser precisi, italo-croato. Stiamo parlando di Ivan Santini, attaccante di chiare origini italiane, ma con passaporto croato. La punta centrale sulla quale ha posato gli occhi il crotone gioca nello standard Liegi in Serie A belga, campionato nel quale ha siglato otto reti in 21 presenze nell'ultima stagione. Alto 190 centimetri con un passato in Germania, Santini sarebbe il profilo adatto a sostituire Budimir, visto che ricorda molto il cigno di Zenica. Forza fisica e tanta generosità sono infatti le migliori armi di Santini, che è poi anche molto bravo nel gioco aereo. La società pitagorica sta trattando per ottenerne il prestito con diritto di riscatto, per appunto portarlo a crotone. Un nuovo Budimir per Nicola? Staremo a vedere. Intanto si pensa anche a rinforzare gli altri reparti. A centrocampo Orsino avrebbe intavolato un discorso con il Milan per il prestito di José Mauri, se il classe 95 non dovesse rientrare nei piani di Montella. Mentre per la difesa si pensa ad un giocatore d'esperienza, Cristiano Delgrosso. Delgrosso è un terzino che può giocare su entrambi i lati, è svincolato, è lontano dai campi di calcio da qualche tempo per colpa di un brutto incidente stradale. Proprio per questo Nicola vorrebbe prima valutarne le sue condizioni fisiche, per poi decidere, d'accordo con la società, se tesserarlo o meno. Il calciatore è atteso a breve a Moccone. Sul fronte cessioni c'è stata una richiesta del Carpi per Zampano che potrebbe dunque partire. Nella trattativa potrebbe anche rientrare Bianco, giocatore che piace al crotone. Mentre al contrario già Marco Ferrari è sempre più vicino a restare in rosso-blu. Aspettando Delgrosso, il crotone in difesa piazza un altro colpo e dal Vicenza acquista Mario Sampirisi, difensore classe 1992, reduce da una buona stagione in cadetteria proprio con la maglia del Vicenza. Il terzino è atteso a Moccone in queste ore. Inaugurato giovedì 14 luglio il villaggio velico sul porto di Crotone, la cittadella che sarà il punto di riferimento per atleti e accompagnatori, ma anche per curiosi i quali si stanno preparando al meglio per il via ufficiale alle regate di domenica. Oggi alle 18.30 è prevista invece la cerimonia d'apertura ufficiale dell'Optimist European Championship. Allora, Claudio Perreti, manager del club velico, oggi siamo qui per inaugurare il villaggio velico, io l'ho ribattezzato così, o la cittadella della vela se la vogliamo chiamare, perché domenica poi inizieranno le regate. Insomma, stiamo entrando nel vivo di questo evento molto importante per la città di Crotone e per tutta la Calabria. Ci siamo, un lavoro in mane, come avete potuto vedere, riqualificare questo porticciolo turistico sarebbe bello che rimanesse sempre così, perché vedere tutto questo colore, vedere tanti ragazzi, vedere tutte quelle bandiere che rappresentano le nazioni che parteciperanno, ma vedere anche, come dire, riqualificate alcune strutture che esistevano, che forse avevano bisogno di un po' di manutenzione. Il club velico ha messo su una squadra eccezionale di volontari, consentitemi di ringraziare tutti veramente, perché il presidente è sicuramente l'anima, l'ispiratore, ma è il primo operaio, è il primo operaio, è quello che lo vedete sempre sicuramente anche con la scopa, col martello, nessuno di noi si tira indietro rispetto a quello che c'è da fare. Per cui abbiamo messo su questa organizzazione, questa regata incredibile, sicuramente la regata di più alto livello che abbiamo mai portato a Crotone, perché abbiamo avuto la Carnival Race, che ha visto anche la partecipazione di squadre di un po' di mezza Europa, abbiamo avuto campionati giovanili italiani, li avremo nuovamente nel 2017, ma questa è una competizione, io non dico europea, ma dico mondiale. Come sta reagendo, come reagiranno i cittadini in questa settimana? A noi dispiace aver dovuto, come dire, cambiare la formula, perché le prime manifestazioni noi le abbiamo fatte sul lungomare cittadino. Capisco che era una cosa sicuramente più fruibile per la gente che aveva modo di valutare, apprezzare l'uscita e il rientro delle barche, poi quando sono fuori è difficile seguire, però era già bello, diciamo, ed era scenografico, coreografico, vedere quelle barchette messe lì sulla spiaggia, vedere la mattina all'alza bandiera partire tutti subito fuori per le regate. Questo invece ha bisogno di un'altra struttura, l'abbiamo creata qui sul porto, ma il villaggio è aperto a tutti i visitatori, anzi io invito proprio attraverso la vostra televisione a venire a visitare il villaggio, a venire a vedere quello che è stato fatto. E certo, domenica cominceranno le regate, cinque giorni di regate, ma prima ancora ci sarà la cerimonia di apertura che attraverserà tutto il lungomare per portarsi sull'arenile subito dopo il gambero rosso dove ci sarà la cerimonia d'apertura. Lei rappresenta il main sponsor, meglio lei, il suo gruppo bancario, rappresenta il main sponsor di questo evento, di questo grande evento per Crotone, ma direi anche per tutta la Calabria. Quanto è orgoglioso appunto di rappresentare questo evento? Sono molto orgoglioso intanto perché sono calabrese e quindi da calabrese è un evento così importante in una piazza come Crotone, tra parentesi profondo sud, che mette questa città e la Calabria al centro d'Europa è una cosa importante e noi non potevamo mancare perché la nostra azienda che lavora, opera sui territori anche del mezzogiorno, tende assolutamente a valorizzarne le risorse. Qui c'è il mare, ci sono i ragazzi, i giovani e quindi non poteva mancare più il bank. Il club velico sono ormai anni che lavora su questa lunghezza d'onda, ha ottenuto già dei grandi risultati, li sta ottenendo e penso che ne otterrà ancora di migliori. Secondo lei la rinascita del sud, in questo caso della Calabria di Crotone, passa veramente dal mare e dal turismo che si può portare attraverso lo sport. Assolutamente sì, un plauso al club velico Crotone perché è da diversi anni che si sta adoperando per cercare di valorizzare proprio queste risorse che ci sono nella nostra regione, nel mezzogiorno intero perché poi questa è un'area che arriva fino a metà ponto come area di interesse e perciò tocca anche la Lucania e la Basilicata. Valorizzare risorse come il mare è fondamentale per le regioni del mezzogiorno, il turismo e quindi tutto quello che ruota intorno al mare assolutamente fa bene a questa regione che da un punto di vista economico anche ultimamente sta risentendo parecchio. Perciò iniziative come queste e altre che ne possano venire assolutamente sono ben gradite. Riccardo Andrea Leccese, molisano da parte di padre e marchigiano da parte di madre, ma nato in Colombia e che gareggia per i colori italiani, è il leader della classifica provvisoria alla fine della prima giornata di gare di qualificazione del campionato mondiale di kitesurf specialità hydrofoil che si è svolta ieri a Gizzeria. Secondo posto per Axel Masellat, francese, terza piazza per Maxime Nocher, anche lui francese, del Principato di Monaco. Tra le donne, la prima è Jade O'Connor, irlandese, seguita da Alexia Fanselli, francese, terza invece la russa Elena Calinina. Il quindicenne, Oliver Hansen, il più giovane rider della competizione, si è piazzato diciottesimo, mentre il più anziano, il romano Pierluigi Capozzi, è cinquantottesimo. Il vento, di circa 30 nodi, decisamente forte rispetto alla norma del kite zone di Gizzeria, ha impegnato tecnicamente gli atleti, sebbene tutti i riders siano preparati ad affrontare anche queste condizioni meteomarine. Oggi la seconda giornata di gare di qualificazione, di cui vi renderemo conto domani. Grazie a tutti. 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 Grazie a tutti.